Palermo Elevator Pitch, questo è il nome dell'incontro che si è tenuto alla Mondadori in tema di nuove idee e tecnologie. Innovatori di tutta l'età hanno potuto presentare idee imprenditoriali, casi di studio, prodotti e servizi, tutti rigorosamente made in Palermo. 16 progetti presentati ad una giuria di 4 investitori che hanno votato l'idea più originale da finanziare. Responsabile dell'evento, Francesco Passantino. L'Elevator Pitch è un format di discussione importato dagli Stati Uniti che permette a giovani imprenditori di raccontare la loro idea imprenditoriale in 5 minuti. 5 minuti soltanto quelli concessi ai singoli candidati per presentare in modo convincente le loro idee, da cui il nome Elevator Pitch, ovvero discorso d'ascensore. Un'idea che prende spunto da un progetto più grande, che unisce appassionati delle nuove tecnologie, quasi 400 gruppi, in circa 95 paesi in tutto il mondo. Il seguito è molto grande, abbiamo moltissime visite sul sito web, molti iscritti alla newsletter e sul gruppo LinkedIn. Tante le proposte e grande partecipazione dei giovani panermitani che si sono messi in gioco nella speranza di veder finanziata una loro idea. Che cosa presenti oggi? Oggi presentiamo io e Francesco Sciortino, il mio socio, ed è subito Serial, che è una start-up con protagonista un giornale online dedicato alla serialità televisiva e alla fiction italiana. Io presento le attività di ISEC Palermo, che è un'organizzazione internazionale presente in 110 paesi al mondo e soprattutto presento uno dei progetti che ISEC Palermo sta portando avanti. I progetti che porta avanti ISEC Palermo sono tutti dei progetti che mirano a sviluppare delle capacità di lavoro in gruppo e questo è anche un altro fattore di innovazione.